Centinaia di anni di lavoro, di esperienza del viticoltore pantesco hanno portato a una pratica che è l'alberello pantesco che produce davvero un'eccellenza. Grazie allo zibibbo, grazie a questo clima incredibile, molto ventoso di pantelleria, grazie alla sabbia vulcanica e alla sapienza dell'uomo, oggi riusciamo a produrre un'uva passa davvero concentrata, ricca, intensa di sapori che ci permette di produrre il grande passito di pantelleria.